A sinistra c'è la gente Si si lo so Guarda 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 Pieno 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 C'è avuto il cadone fisso Cazzo Guarda che c'è prenduto qua dietro Guarda 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 No Segui automati va finito Minchia Segnalo Sto in testa da qua Ma non colpe no 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 Sì Vabbè Un'elicottero Un'elicottero Una tripla Un'elicottero 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 Che è il colpore? no no ahahah che twink a quattro ne ho fatte non si grazie ah non ci piace nooo troppo bella questa eh prendilo ah cazzo caro francese vicino al cheat ma porco due guardalo ah ah wow oh�ééééééééééééééééééééééhh Uhuuuh